Dall'Istituto Scolastico Archimede l'invito al Sindaco di intitolare una via alla scrittrice Laura Carpentieri di Falco. Le studentesse e gli studenti del 13esimo Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa hanno consegnato al Sindaco Francesco Italia la proposta di intitolazione di una via cittadina alla scrittrice siracusana Laura Carpentieri di Falco. La richiesta è stata formalizzata mercoledì 16 ottobre nell'Aula Magna dell'Istituto di Via Caduto di Inisteria nel corso dell'incontro a cui ha partecipato anche il Sindaco Italia che ha concluso il percorso formativo alle vie delle donne tra impegno e responsabilità che ha coinvolto per un intero anno scolastico le alunne e gli alunni delle quarte e quinte classi della scuola primaria e quella della scuola secondaria di primo grado.